Buongiorno a tutti! E ci sono messi a raccontare i cazzoli di Brignano Che sai quando ha detto che ci salveranno solo 244 milioni? Una cosa di mormon un po' Che piggete? Diti scusa Ma se c'è solo 244 milioni? Ma se c'è solo 244 milioni? Non è da trovarsi E' un po' Quando vieni in trentino Ci senti che quando superguota 2000 un respiro ci fa proprio Che possibile? Especialmente per noi che non arrivano a questi paesi, ci siamo più umani. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.